ciao a tutti amici e guardate che bello piove anche oggi ragazzi 22 maggio è incredibile incredibile da non credere benissimo siamo qui nel pollaio sono tutti i motori sono riscaldati per cui adesso faremo una grande partenza sul bagnato tenetevi forte ah mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel like e commentate se anche da voi ha fatto un maggio spettacolare 3 2 1 via si parte ecco prima posizione la galina o vaiola poi abbiamo la bress una barata incrociata ecco una livornese benissimo c'è un po di scompiglio sulla griglia di partenza scusate ma io non è che sono uno sportivo per cui faccio un po a casaccio la telecronica bellissimo da panui rambo ah ho letto l'abbiamo messo separato che stiamo iniziando a fare la razza fenix per avere le uova pure per cui se poi qualcuno fosse interessato mi contatti per le uova pure di fenix a poi ho separato anche le ancona e abbiamo ancora separato le marans e valdarno e livornesi bianche benissimo tacchino non è asce sta facendo rifornimento ma guarda che tempo ragazzi infatti non hanno molta voglia vabbè apriamo anche di qua che rientrano dicono sono mica sceme se io non mi voglio bagnare ragazzi oggi è così vi capisco aspettate un attimo che proviamo vai guardiamo se vogliono uscire di qua ma dubito che vogliano peccata amici anche per loro è una giornata pessima poldo raccontaci qualcosa tutti dentro mi sa che oggi c'è poco da fare e vabbè dai cos'altro vi posso dire niente andiamo a pulire il pollaio dopo il canto di lui e il fratello di zorro un galo valdarno ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale e ciao a tutti